Buongiorno buongiorno mondo di YouTube, è un po' che non faccio un bel video ma è un po' che non escono vere e proprie news e quindi che ve lo so di? Mi sono dedicato alle live. Comunque bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e gameplay e ci aggiungerei anche live dei vostri giochi preferiti. Intro e proseguiamo. E' vero che è un po' che non faccio video ma vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se per caso non lo siete per rimanere sempre aggiornati su tutto gioco accade nei vostri mondi videoludici. Vi ricordo che vedo le statistiche che adesso vedete anche voi eppure essendo parecchio migliorate sarebbe bello vedere qualche percentuale salire. Detto questo oggi parliamo un attimo di New World come sapete ho nell'ultimo video dedicato parlato malissimo di Amazon e avevo deciso di abbandonare il gioco ma sono umano anche io e forse stavolta ho tirato un pochettino lungo. Dico forse perché e lo state vedendo oramai da qualche minuto sto partecipando alla beta di New World, oramai ho qualche ora sulle spalle e la base del gioco diciamo che l'ho assimilata. E ho potuto confrontare sia la mia esperienza passata sugli MMORPG sia l'esperienza di tutti i miei amici con cui ho giocato e ho passato da ultimo online qualsiasi tipo di MMORPG in circolazione. Ovviamente confrontando con questo titolo che che cosa di buono e che cosa secondo me ovviamente è sbagliato. Iniziamo ovviamente con quello che c'è di buono in questo titolo prima di tutto la grafica ancora grezza perché è comunque una beta e l'ottimizzazione del gioco è ancora ben lontana ma la grafica è decisamente a favore di New World. Non possiamo pretendere in un gioco come questo chiaramente una grafica oltre alla Death Stranding ma c'è da aspettare e c'è da spezzare soprattutto una lancia a favore di Amazon in quanto questo MMORPG si fa apprezzare sotto questo punto di vista. Il sistema di combattimento è una possibile arma vincente di questo titolo lo stile soulslike si vede è papabile ed è fatto bene parate contro attacchi schivate e attacchi sono veramente ben bilanciati per i personaggi che avendo tre skill e semplicemente la distrazione del player alle spalle fanno sorridere chi gioca. E si dico sorridere perché pur essendo nelle prime fasi di gioco anche chi vuole fare la voce grossa mettendosi nelle aree iniziali per uccidere o fare pick up a dei novellini le prende ma non per la scarsità dell'equipaggiamento ma per scarsità del giocatore stesso. E questo mi ricorda parecchio ultimo online un'ultima nota a favore di questo sistema è il fatto degli headshot che per assurdo non avevo mai visto in un titolo di questo genere arco e moschetto si possono usare come un fps bisogna perfino stare attenti alla gravità che influenza la traiettoria dei proiettili stessi quindi Amazon in questo personalmente ti faccio i complimenti. Oltre le due note positive ci sono cos'altro? Passiamo a quelle per cui non ho detto né bello né brutto ma ho detto ma bello il sistema di trading non esistono i vendor e tutto in mano ai player figata ma il fatto che non ci siano i vendor e il fatto che tutto sia in mano ai player fa botte con il fatto che per vendere degli equipaggiamenti bisogna craftarli e per craftare gli equipaggiamenti bisogna avere gli strumenti strumenti come banchi di lavoro che devono essere migliorati nelle varie città da quegli stessi player che giocano. Ora da una parte è una figata uno come me che ha sempre svolto il ruolo del commerciante praticamente in tutti i giochi che ha svolto è bellissimo peccato che mi devo scontrare con la community che magari in quella determinata zona in quel determinato avamposto di aumentare e fare le quest per migliorare quel determinato avamposto di voglia non ne ha e si ritrova ahimè in un labirinto senza fine. Altra cosa sul ma ma non è una critica stavolta sono le quest classiche nulla di nuovo attualmente su quel fronte Amazon riutilizza la stessa cosa che esiste in ogni MMORPG di questo cazzo di mondo fa il postino uccidito 8 mostri recuperato 8 risorse nulla di nuovo all'orizzonte per l'amor di dio non prendetela male non è una critica funziona e va bene così ma potevano pensare a qualcosa di leggermente diverso come per esempio per il sistema di combattimento e invece no quello che funziona non lo si cambia. Ultima ma non ultima e si ricollega a quel discorso stupendo sul sistema di combattimento è l'intelligenza dell'IA. Ora metto subito una pezza su questa cosa dicendo è una beta è migliorabilissima quindi per ora lasciamo nel limbo ciò che dico anche se è da dire l'intelligenza dei mob è oscena attualmente è più facile trovare persone capaci su full guys e se avete visto le mie live capite di che parlo che è un mob minimamente intelligente qua ma è migliorabile quindi finisco qua di parlare di questo e andiamo oltre. Passiamo ora alle cose negative innanzitutto e questo è una conferma il sistema fazioni secondo me è un punto a sfavore di questo titolo nato come pvp e passato anche a pve scegliere e non poter mutare una fazione è una cosa pessima questo per un motivo semplice seguitemi nel ragionamento io qualche giorno fa ho acceso il gioco avevo un amico che già era arrivato alla scelta di fazione e giustamente l'ha fatta ora se voglio giocare con quel mio amico io devo per forza scegliere quella fazione e questo succede per tutti gli altri miei amici che prenderanno il gioco e che arriveranno dopo di me e vi spiego il perché se io scegliessi un'altra fazione mi precludi il gioco con lui su questa della fazione quindi o gioco da solo o trovo altra gente magari strana con cui farlo guerre varie ed eventuali stessa cosa gille stessa cosa in pratica con lui posso potrei cazzeggiare in giro facendo queste generiche e uccidendo mob a caso ma finisce lì e questo per me non va bene io voglio poter giocare con chi mi pare piace e le fazioni dovrebbero essere fluide non così stagnanti mio pensiero ovviamente ma è una spada di damo che pende sulla buona riuscita di questo gioco e non è di poco conto considerando che tutto il new world si basa su questo altra nota negativa è la pochezza di armi da utilizzare è una beta lo so ce ne saranno altre che verranno inserite lo so ne sono certo ma per ora è poco e nulla è una beta sì fammi divertire e dammi la possibilità di provare tutto ciò che c'è da provare magari con un level cap ma non precludermi questa scelta non mettendo proprio degli elementi nel gioco stesso quindi sapete se seguite il gioco che ho messo parecchie cose ma vorrei prima sviscerarle io in game amazon sta facendo un buon lavoro con delle potenzialità ancora secondo me parecchie inespresse e con delle limitazioni che potrebbero affossare il gioco ma la strada tracciata è buona speriamo solo non faccia flop come per i titoli che hanno fatto uscire precedentemente a questo ricordiamo crucible bene con questo è tutto ci vediamo alla prossima live o al prossimo video gg a tutti quanti grazie 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 grazie